Collaboriamo con Clean Up, che è già un movimento che da un paio d'anni lavora bene sul territorio e questa è una delle iniziative di coinvolgimento delle persone e pubblicizzazione dell'evento più grande che sarà quest'anno, che è appunto quello del Vesuvio, dell'8 e 9 giugno 2013, appunto dove bonificheremo parte del Parco Nazionale del Vesuvio. Oggi siamo qui a Piazza Bellini con l'associazione Clean Up e le studi utili, proprio per organizzare questa pulizia di una piazza che è frequentata da moltissimi giovani, una piazza che forse un mese fa è stata su tutti i giornali perché era sporca, perché la sera non si capisce più che cosa si fa. Ecco, Intercultura si occupa, oltre a effettuare dei scambi di ragazzi appunto in tutto il mondo, si occupa proprio di educare il cittadino al dialogo interculturale e così cerchiamo di costruire un mondo migliore.